Dopo che si è stati vaccinati, si può rinunciare alle misure di sicurezza? No, non posso rinunciare perché non ci sono ancora studi che confermono che io non mi posso più infettare anche se sono vaccinato. Dobbiamo proteggere le persone non vaccinate e finire così un po' questa circolazione del virus, ridurre la pandemia. Non bisogna accedere a questo effetto psicologico di liberazione, non ho più paura, a me non si accede più niente, bisogna continuare con tutte le misure di prevenzione.